Qualcuno la chiama vanità, per altri andare contro natura. Ad ogni modo la maggior parte di noi vuole apparire giovane il più a lungo possibile. La pelle è l'organo più grande del corpo umano. Senza di essa saremo esposti ad ogni genere di offesa. Essa ci protegge dall'ambiente, regola la temperatura corporea e contiene i recettori tattili che ci permettono di provare sensazioni di dolore e di piacere. Tuttavia i cambiamenti della pelle sono tra i segni più visibili dell'invecchiamento. Ci prendiamo cura della nostra pelle perché vogliamo apparire giovani e perché non dovremmo? Spesso ci sottoponiamo a trattamenti costosi e dolorosi per dare alla nostra pelle un aspetto più giovane. Invidiamo le star di Hollywood per quei volti giovanili che non rispecchiano la loro età. Apparire e sentirsi giovani dà alla nostra vita una nuova dimensione. Siamo partner e genitori migliori, più bravi nel lavoro e nello sport. Allora perché dovremmo negarci la possibilità di essere giovani? Fortunatamente c'è a nostra disposizione Hydraxil. Hydraxil è una rivoluzionaria crema antietà che riduce e previene le rughe in modo efficace e delicato, con risultati sorprendenti. Con l'età la pelle perde elasticità e compattezza a causa della perdita di collagene nel derma, che rende la pelle più sottile e porta alla formazione delle rughe. La formula dermatologicamente testata di Hydraxil penetra in profondità nella pelle per aumentare in modo naturale la produzione di collagene e aiutare a ripristinare l'elasticità. Hydraxil ha un'efficacia provata nel ridurre la visibilità delle rughe fino al 60% in appena 4 settimane. Grazie a Hydraxil non dovrai mai più acquistare altri prodotti per rassodare la pelle, perché Hydraxil ringiovanisce la pelle favorendo la naturale produzione di collagene, oltre a lenire la pelle secca e riparare i danni prodotti dai raggi UV, rivitalizzando le cellule. Dai l'addio al Botox e il benvenuto a una pelle ringiovanita in modo naturale. Hydraxil, la tua personale fonte di giovinezza. Ordina ora!